Ragazzi, questo, questo, questo è un video dissing ai miei haters, perché non è possibile, capito? Che nel 2017 ci sia ancora questa gente ignorante Perché dicono, sentite un po' cosa dicono questi stupidi haters del cavolo Che la Blue Wave Challenge è finta, non mi sono buttato davvero dal terazzo Ma si può dirlo? Cioè mi sono buttato davvero dal terazzo, ecco E molti dicono Non mi sono buttato davvero dal terazzo perché fai ancora i video Cosa vuol dire? E se io mi fossi un po' reincarnato? Cioè, io non capisco questa gente di mentalità chiusa che ha Io non mi sono buttato davvero dal terazzo? Ma che cosa dite? È ovvio che lo faccio per voi Io lo faccio per voi, ragazzi E quei 100.000 like che chiedo Servono a vedere il vostro apprezzamento al video Infatti vi chiedo 100.000 like prima di iniziare il video Perché so che il video vi piacerà già Capito? Quindi haters del cavolo Prima di aprire la bocca Pensate Perché la prossima volta Vi denuncio Ecco Io non mi sono buttato Vico che sono fatti sbagliare!